Prendi questo. Come devo impugnarlo? La tua mano a decidere. Non devi sentirlo come un corpo strano, ma come parte integrante del tuo punto. Se stai usando il coltello vuol dire che sei già vicino al tuo avversario, quindi attaccato al pericolo, alla morte. La paura deve essere messa da parte per lasciare spazio all'azione. Non avrai tempo per un secondo corpo, quindi già il primo deve essere letale. Dai, provo una posizione. No. Il coltello deve stare sempre avanti. Con il coltello attacchi, con il coltello pari. Stai diagonale, non offrire il corpo all'avversario. Muoviti sempre, usa l'altro braccio per trovare un equilibrio. Te lo colpisci qui nel fianco. Sentirà un dolore fortissimo, ma è probabile che sa la cavi. Te lo colpisci qui, nel cuore. La perdita di senso è immediata. In tre secondi è morto. Se invece lo colpisci qui nel collo, avrà trenta secondi prima di morire soffocato nel suo stesso sangue. L'ultima faccia che vedrà non è quella delle persone che hanno, ma la tua. La vendetta più crudele. Le canale. La vendetta più grande è un profilo. Grazie a tutti